Parliamo della Cina. È interessante considerare quello che è stato deciso la scorsa primavera dal Partito Comunista Cinesi in tema di politiche demografiche. Voi sapete che la Cina è tristemente nota per politiche di repressione della natalità, cruente, a partire dal 1978 quando Teng Xiaoping l'allora leader del Partito Comunista Cinese varò la famigerata politica del figlio unico con conseguenze molto gravi fino appunto all'esecuzione di aborti forzati per le famiglie che non la rispettavano. Ecco questa politica di figlio unico ha portato ovviamente a un continuo calo della natalità e per di più di tipo selettivo perché in particolare sono diminuite le nascite di bambine e quindi questo ha creato tra l'altro uno squilibrio tra i sessi destinato a incidere negativamente sulle prospettive demografiche della Cina. Uno squilibrio anche tra città e campagna perché in campagna queste politiche sono state seguite meno perché c'era la possibilità di occultare i figli in eccesso per così dire però con la conseguenza che ci sono persone che non risultano da nessuna parte quindi non godono di alcun tipo di diritto. Ecco queste politiche sono state avviate da Deng Xiaoping contemporaneamente alle aperture dal lato economico e paradossalmente ragionando dal punto di vista proprio squisitamente materialistico hanno contribuito alla crescita della Cina in una prima fase perché è chiaro che non dovendo occuparsi dei figli il sistema economico in una prima fase ne ha un beneficio però è esattamente come un imprenditore che non ripristina il capitale ma lo consuma e non avendo dei figli dopo un po' si hanno delle conseguenze negative anche sul fronte economico perché la piramide demografica come abbiamo detto nella pillola precedente si trasforma un po' per volta in un fungo cioè con un cappello sempre più grande di persone che sono entrate in pensione che quindi necessitano di costi comportano dei costi pensionistici sanitari assistenziali che vanno a gravare su una popolazione in età lavorativa cioè il gambo del fungo sempre più stretto a causa proprio delle politiche di denatalità quindi questo comporta dei problemi di sostenibilità particolarmente pesante tanto è vero che la cina se ne era accorta già nel 2015 quando aveva aperto al secondo figlio per famiglia e poi soprattutto la scorsa primavera dopo un report della banca popolare cinese si sono resi conti che il la situazione demografica in cina sta scappando di mano ma nella direzione opposta a quella paventata nei decenni passati cioè si va verso un vero e proprio inverno demografico un collasso demografico un numero di nati assolutamente inadeguato per tenere in piedi una struttura una struttura demografica come quella cinese quindi sono corsi a ripari e il partito comunista ha cambiato ancora la politica le politiche demografiche consentendo alle famiglie di avere il terzo figlio sorvolo sul fatto che non ha senso che sia lo stato a decidere una delle scelte più intime delle famiglie cioè la natalità quindi lo fanno solo per motivi di opportunità pratica continuano a considerare le persone come una massa di manovra ma da un certo punto di vista è proprio questo l'aspetto interessante cioè il partito comunista cinese che non ha la più minima sensibilità per i diritti umani non ha di certo rispetto per la famiglia o per il creato o per la natura umana o per dio ma nonostante questo si sono resi conto che il crollo demografico rappresenta una minaccia per la loro economia e anche da un punto di vista di geopolitica perché un paese che si contrae perde di forza politica quindi si sono resi conto che per mantenere una posizione di forza nei confronti dell'occidente in particolar modo degli stati uniti avevano bisogno di avere figli e quindi hanno ribaltato le politiche precedenti se non che non è facile stimolare la ripresa della natalità è facile comprimerla loro l'hanno fatto nei decenni passati con politiche cruenti responsabili della morte di centinaia di milioni di bambini in occidente l'abbiamo fatto con una visione culturale sbagliata con una riforma delito di famiglia l'introduzione del divorzio dell'aborto con politiche assolutamente ostile alla famiglia naturale alla vita fino a una fiscalità sfavorevole quindi noi l'abbiamo scoraggiata e la scoraggiamo in tutti i modi in cina l'hanno fatto da un punto di vista proprio fisico e criminale ma il fatto che loro abbiano cambiato strada stiano cambiando strada e lo fanno per motivi pratici è una cosa molto interessante da cui noi dovremmo imparare perché è una conferma della naturalità di un ordine della famiglia della essenzialità della della continuità demografica per mantenere in piedi una struttura una struttura umana una società umana e il fatto che se ne sia se ne sia accorto il partito comunista cinese secondo me è una lezione per tutti questa è proprio la vera sostenibilità su cui dovremmo puntare anche noi in occidente è una ripresa della natalità non sarà facile farlo perché non bastano gli incentivi pubblici è un problema di tipo culturale ma iniziare a parlarne fare capire che se vogliamo avere una prospettiva anche da un punto di vista squisitamente economico materiale dobbiamo puntare sulla ripresa della natalità finalmente abbiamo qualcosa da imparare anche dalla cina